Grazie a tutti, sono Camilla Baresani, sono orgogliosa di presentare questa sera il romanzo di Catherine Dunn, di cui sono una delle prime lettrici. Ora vi voglio parlare di questo romanzo che cosa non è? Partiamo da che cosa non è. È un romanzo sui diversamente abili? No, però ha un suo ruolo, un diversamente abile. È un romanzo sui bambini? È un romanzo sui nonni? Sui vecchi? No, però ci sono. È un romanzo sulle mogli umiliate e offese? No, ma non manca. È un romanzo sulle corna? Subito il guizzo di interesse. Non è un romanzo sulle corna, ma ce n'è parecchie. Ecco, questo è un romanzo sugli immigrati? No, ma ci sono pure gli immigrati. Questo, volevo dirvi, è un romanzo su una famiglia, la storia di una famiglia. Sono le storie che io preferisco perché hanno un contenuto che è intimo, sentimentale, cioè diciamo le dinamiche, le relazioni tra i personaggi di una famiglia, ma la storia di una famiglia ha anche un contenuto che è sociologico, cioè come questa famiglia si rapporta alle altre famiglie in mezzo a cui vive e c'è un contenuto storico, come questa famiglia si rapporta rispetto al passato da cui proviene e al futuro in cui si proietta, in quel luogo. Ecco, quindi i romanzi sulle famiglie sono i più ricchi, sono quelli che sulla storia di una famiglia, sull'evoluzione di una famiglia, sono quelli che ti appassionano di più. Questo poi è costruito in un modo straordinariamente avvincente. Vi confesserò un segreto, quando uno presenta un libro, come capita, nel 90% dei casi non lo legge, cioè ne legge qua e là dei pezzi, lo fa perché è amico della persona che ha scritto il libro, lo fa perché gliel'ha chiesto il direttore della casa editrice che è un suo amico, lo fa per mille motivi, per gentilezza, per voglia di apparire, però quasi mai ha tempo di leggere quel libro fino in fondo perché è preso dalla sua vita, perché comunque ci vuol tempo a leggere. Io non sapevo se avrei letto tutto questo libro che sono 400 pagine, ho una vita molto piena, c'è un sacco di cose da fare, pensavo ne leggerò forse, cioè l'idea era lo leggo tutto, però poi so che i propositi non si seguono quasi mai. Beh, l'ho letto tutto, l'ho letto tutto non facendo altro, dimenticando tutto il resto, l'ho letto fino in fondo, fino all'ultima pagina, le ultime 30 questa mattina ho messo la sveglia alle 6 perché poi dopo dovevo leggere i giornali, tutti i giornali che mi ci vuole due ore per leggere tutte le rassegne stampa, ma prima volevo finire questo romanzo perché sentivo che anche le ultime 30 pagine, come tutte le 330, 70, non so quante erano, che le avevano precedute, avevano un senso. Volevo vedere come andava avanti, volevo vedere questa storia in cui non c'è un morto ammazzato, non c'è un assassino, non c'è un killer, non c'è un commissario, non c'è un magistrato, non c'è un dannato giallo da risolvere, che sembra ormai che si legga solo quello, come andava avanti procedeva la storia di questa famiglia. Ecco, è una bella storia, è montata benissimo, non riuscite a trasmettere perché non vi annoiate mai, perché ci sono tanti punti di vista, i punti di vista delle due sorelle protagoniste. Insomma, però adesso darei la parola all'autrice finalmente, senza sproloquiare troppo, e comincerei chiedendole come lei riassumerebbe questa storia. Quando tu presenti al tuo editore o a un giornalista, gli devi spiegare di cosa parla il tuo libro, ti sei preparato in genere un nucleo, che sono le famose dieci righe che ti chiedono sempre tutti, dimmi in dieci righe di che cosa parla il tuo romanzo, e tu ne vorresti dire duemila di righe perché non sei capace di fare una sintesi perché è lungo, e invece ti devi cercare di concentrare su qual è il nucleo di questa storia. Allora vorrei chiedere a Catherine Dunn come riassumerebbe questa storia così piena, così ricca, piena non solo di protagonisti ma proprio di episodi e di accadimenti. Wow, I think you've told them everything. It's a story that is above all informed by my passion for Greek mythology. It's a story loosely based on the myth of Phaedra. I believe the Greeks got so many things right, particularly the way we relate to each other. in families. So I wanted to explore what it's like to have a sister. I don't have sisters. I wanted to explore what it would be like to live in the midst of a very, very complicated family. and I wanted to follow the mythological story of the two sisters, Phaedra and Ariadne, with all of their betrayals and their triumphs and their successes. Is that ten lines? Non so se siamo proprio dieci righe. Che cosa volevo fare con questa storia? Beh, volevo esprimere e trovare uno sfogo per quella che in realtà è una mia grande passione, la passione per la mitologia greca, perché in effetti la trama si basa più o meno, diciamo così, segue la falsa riga del mito di Phaedra. e dobbiamo ammettere che questi greci la sapevano lunga, soprattutto quando si tratta di analizzare i rapporti tra le persone a maggior ragione all'interno delle famiglie ed effettivamente è questo che mi sono riproposta di fare. Io non ho sorelle ma volevo indagare proprio il rapporto che si crea tra delle sorelle, volevo cercare di immedesimarmi e di capire cosa vuol dire vivere in una famiglia che ha delle dinamiche così complesse e volevo effettivamente, come vi accennavo, come dire, attualizzare, per così dire, rendere mio il mito appunto di Phaedra, Arianna appunto e scoprire cosa succedeva. Non sono sicura di esserci stata nelle dieci righe. Sì, sì, erano dieci righe, era una sintesi perfetta. In questa storia c'è una famiglia che arriva a Dublino nel 1974, scappa da Cipro dove sono arrivati i turchi che cercano di conquistare il predominio sull'isola. Questa famiglia è una famiglia di profughi quindi come ormai siamo, magari nel 1974 i profughi erano meno, adesso noi siamo in un piccolo mondo che ha attorno un grande mondo di profughi che vogliono arrivare in un posto dove si sta meglio. Questa famiglia di Cipro, quindi bel clima, mangiare bene, pesci, verdure, non so, frutti, arriva a Dublino dove fa freddo, dove non conosce nessuno e non parlano la lingua. E lì inizia la loro vita e questa vita è una vita che è molto solitaria ma non perché qualcuno li odi o perché loro odino gli altri ma perché a un certo punto nasce un bambino, un bambino che ha un problema, che dopo qualche anno rivela di avere un gravissimo problema e questo bambino assorbirà per tanti anni l'attenzione della famiglia anche diciamo succhiando tutta l'aria che c'era nell'atmosfera. E' un termine che usa la scrittrice Catherine Dunn, cioè questo fatto che c'è un ossigeno in una famiglia ma questo ossigeno viene tutto risucchiato dal bambino per cui la sorella che c'era prima che per quattro anni o sei anni adesso non ricordo bene aveva goduto dell'amore dei genitori e delle attenzioni incondizionate. La sorella che verrà dopo e i genitori stessi saranno tutti impegnati e concentrati intorno a questo povero bambino. Temevo leggendolo il pianisteo, cioè la cosa lacrimosa che è anche poi una caratteristica di molti romanzi che a me non piacciono oppure al contrario l'ironia, il cattivismo, che poi è l'altra faccia della medaglia. Invece ho trovato estremamente dignitoso dal punto di vista però letterario dello scrittore il modo in cui questa vicenda è stata condotta. Non ci fa piangere, ci fa riflettere, mi fa godere nelle notazioni e nei dettagli che la scrittrice esamina e che immediatamente riconosco perché immagino che più o meno a tutti voi sia capitato di conoscere famiglie così. Quindi ho ammirato molto il ciglio asciutto di questa letteratura irlandese o a volte diciamo anglosassone o nordica che riesce a condurre una vicenda così su cui era facile piggiare l'acceleratore e dire adesso lettore ti faccio piangere, voglio vederti sconvolto, voglio vederti turbato e invece non la conduce così. Parlando prima in macchina con la scrittrice ho scoperto che molte delle cose che racconta le ha inventate, cioè non sono lei non ha un figlio così, non ha una sorella, non ha mai vissuto a Cipro, da qui viene la famiglia di immigrati. Mi piacerebbe capire come il suo processo immaginativo è riuscito a condurre questa storia. I think it's every writer's job to step inside the shoes of the characters that we create and fiction obviously is a work of the imagination by definition and the way in which I approach my characters is to ask myself that eternal writer's question all the time of what if, what if, what if I was in this situation? How would I behave? How would I understand it? And I think the danger as you rightly pointed out is that when dealing with a lovely boy like Mitras who happens to be disabled and I will always phrase this as a boy who is disabled rather than a disabled boy because the boy should come first, not the disability. His humanity should come first, his problem later. It is a big danger to slip into sentimentality, to make the reader, as you say, cry, which I think cheapens the emotion and I'm very glad that it made you reflect on something rather than feeling just this enormous sorrow for this boy I think they say that no writing is autobiographical and perhaps all writing is autobiographical It has to come from somewhere inside the writer but I think it comes from a mixture of observation, primarily imagination and then there's a great deal of craft after that, there's a great deal of writing and rewriting and rewriting and my particular choice to have the Emilia Anides family as Cypriot refugees is simply a thread which links it to the first book in this trilogy of Greek myths which was Un Terribile Amore No, no, it's fine Dunque, un po' tutti gli scrittori cosa fanno quando scrivono un romanzo? Cosa fanno dei personaggi e quello che cercano di fare insomma è mettersi nei loro panni alla fine facciamo quella che si chiama fiction che da noi si dice narrativa però fiction appunto vuol dire qualcosa di immaginario, di inventato, l'immaginazione e quindi io quando scrivo un romanzo cosa faccio? Mi pongo l'eterna questione, l'eterna domanda che tutti gli scrittori si pongono e che continuano a porsi ovvero cosa succederebbe se... e quindi mi dico cosa succederebbe se io mi trovassi in quella situazione come mi comporterei se io mi trovassi in quella situazione ed è così appunto che mi rapporto ai miei personaggi ed effettivamente sì, è vero, è molto interessante questa osservazione sul ragazzino, su Mitros Mitros che tra l'altro è un bambino con una disabilità però il soggetto qui non è la disabilità è il ragazzo che ha questa disabilità ed è qualcosa a cui io tengo molto questa distinzione la cosa a cui tenevo di più però in questa descrizione era proprio il lato umano l'umanità di questa situazione anche delle reazioni degli altri personaggi e soprattutto temevo, rifuggevo e mi fa molto piacere sentire quello che appunto mi dici perché mi rincuora molto di scadere proprio nel sentimentalismo più bieco e più ovvio diciamo cosa che non mi pare di capire avvenuta e questo mi fa molto piacere perché appunto non volevo assolutamente che fosse così non volevo portare facilmente alla lacrima il lettore ma volevo piuttosto come giustamente è successo mi fa molto piacere portare qualcuno a riflettere più che a crogiolarsi nel dolore di questa disgrazia che è capitata a questa famiglia c'è chi dice che tutti i romanzi quando uno scrive sono autobiografici o nessuno dei romanzi che uno scrive sono autobiografici io nel mio piccolo posso dire che sicuramente una storia arriva dall'autore e quindi da quello che c'è dentro all'autore e però c'è un elemento di osservazione sicuramente c'è un elemento di immaginazione e poi c'è tanto tanto lavoro perché effettivamente c'è questa pratica dello scrivere del ritornare su ciò che è scritto del cesellare ciò che è scritto che è veramente molto molto importante e ho scelto di come dire di attribuire alla famiglia appunto dell'Emiliane la nazionalità cipriota perché beh più che altro perché volevo riagganciarmi a questa dimensione greca che caratterizza questa serie di tre libri appunto che è cominciata con il mio libro precedente questo romanzo dura 40 anni questo è il tempo del romanzo i luoghi dove si svolge sono due Dublino e un po' di Cipro in tutto questo mi ha colpito moltissimo intanto volevo dirvi avete immagino che molte di voi soprattutto le donne i maschi forse no poveretti avranno letto piccole donne e poi piccole donne crescono ecco quella era una letteratura mirabile eccezionale perché è diventato un libro che ha attraversato le generazioni per ragazze ecco io direi che questo è un po' un piccole donne per adulti perché l'ho letto con la stessa gioia con cui leggevo piccole donne da ragazzina volevo vedere come crescevano queste donne queste ragazzine che prendiamo piccole e che poi ritroviamo a 40 anni con i problemi delle quarantenni e avevo la stessa ansia che avevo allora con quelle piccole donne che avrò letto 10, 20, non so 30 volte l'ho letto e riletto di andare avanti e di leggere mi ha colpito molto la costruzione del romanzo questo è un romanzo molto pensato non è scrivo una pagina dopo l'altra e vediamo come va sapete che quando si scrive si può dire inizio da un'idea e poi vedo come va ci sono scrittori che fanno così ed si fa anche così oppure ci sono cose molto costruite in cui le varie parti del libro capisci 300 pagine dopo la necessità di una cosa che hai letto 300 pagine prima ecco questo è uno di questi libri quando arriviamo alla fine nell'ultima riga nell'ultima pagina si chiude un cerchio narrativo non si chiude la vita dei protagonisti dove però tante cose funzionano tutti i meccanismi narrativi gli snodi della trama arrivano ad avere un senso ecco vorrei sapere da Catherine Dunn come ha costruito questo romanzo cioè se non so si è attaccata i foglietti al muro se ha fatto un grafico se invece è diventato un caso un miracolo perché a volte nelle mani di uno scrittore succedono questi miracoli che non so perché le cose si sistemano da sola e una cosa segue un'altra e si riacchiappa all'iniziale insomma vorrei sapere un po' di elementi e segreti di tecnica narrativa di questo romanzo ma non ci penso proprio of wanting to know what happened next and wanting to know what happened to the characters. It wasn't working, it was flat. But I wrote the story to the end, chronologically first, several times. And then I started to look at the structure that added suspense, that added depth to the two sisters' lives and that made the reader keep turning the pages. So if there was one secret, it is that it took three years. In fact, there are a series of different elements that enter in the game, obviously, in the structure of a romance in this way. There is certainly the inspiration. The inspiration, which is a moment, a guizzo, which, if we want to calculate how much depends on what when you write a book, we're talking about the 1% for what is the inspiration. I confess that I have begun to write this story assolutamente in senso cronologico, dall'inizio alla fine. Però mi sono resa conto che mancava questa sensazione di cosa succede dopo, questo pathos, questo suspense di voler andare avanti. L'ho riscritta di nuovo, l'ho riscritta di nuovo in senso cronologico sempre, e di nuovo mi mancava qualcosa, era assolutamente piatta la narrazione, non funzionava, mancava appunto questa suspense, questo pathos. Finché a un certo punto ho deciso di cambiarla, appunto, la struttura del mio romanzo, in modo da aggiungere spessore, profondità ai personaggi, e effettivamente in modo da creare questa suspense. Diciamo che per rispondere in maniera molto breve a questa domanda, per scrivere il libro mi ci sono voluti tre anni. Fate voi. Ecco, questo mi consola, perché anche io quando scrivo il libro ci metto tantissimo, e non so come fanno quelli alla Camilleri, o alla Robecchi, non so, i giallisti che fanno uno o due libri all'anno, mi chiedo sempre come diavolo è possibile che uno abbia questa velocità. Invece abbiamo capito che oltre alla storia e l'ispirazione, c'è anche molto lavoro, come è normale. Ora, voi sapete di avere qui con voi una scrittrice che è abbastanza un mito se si può usare ancora questa parola abusata al punto da diventare quasi orrenda. È una scrittrice, non perché lo sia lei, ma perché quando le parole si usano troppo, tipo straordinario, eccezionale, mito, iconico, così non le vorresti più usare. Però lei lo è, indubbiamente, è una scrittrice che ha venduto milioni di copie nel mondo, un milione quasi in Italia, ed è una scrittrice che ha avuto quella capacità che non ha quasi nessuno e tutti cerchiamo di essere epigrammatica, cioè non solo di riuscire a scrivere una narrazione di 200, 300, 400 pagine, quante ne volete, ma anche di costruire delle frasi che diventano poi delle frasi che la gente dice, delle frasi che la gente ricorda, delle frasi che senza avere una memoria di ferro ti rimangono dentro perché significano qualcosa che hai anche tu e lo significano con una concisione e con un'esattezza delle parole che è ripetibile, non c'è un altro modo di dirla questa cosa, è un conio perfetto. Se vogliamo pensare a uno scrittore italiano che invidio, che ci è riuscito, è Sandro Veronesi con il suo Caos Calmo, un titolo perfetto che di fatti viene continuamente citato e che al di là della bellezza del romanzo ha costruito molto della fortuna di questo romanzo. ci sono, vi ho detto, 40 anni, 40 anni in cui l'Irlanda, che è un paese che non so perché in Italia è molto amato, è più amato, non so, più amato della Danimarca, più amato della Svezia, gli italiani sono sempre stati molto affezionati all'Irlanda, sarà per la letteratura, sarà per il cinema, sarà per la musica celtica, sarà per l'immigrazione, e quel paese è un paese di emigrati in cui anche noi italiani possiamo riconoscerci, sarà per mille motivi ma insomma gli italiani hanno sempre avuto diciamo un occhio di riguardo per fra i paesi nordici per l'Irlanda e quindi anche per la sua letteratura. Ora in questo romanzo un'altra cosa che mi è piaciuta ci sono 40 anni di Irlanda, c'è la povertà, c'è il mondo che progredisce, c'è la grande crisi, c'è poi il boom, insomma ci sono la vita della famiglia come è giusto che sia, non è solo litigare, amarsi, soffrire, è anche comunque vivere in un ambito dove le condizioni economiche cambiano e progrediscono o regrediscono. volevo chiedere a Catherine Dunn se è una cosa che lei programmaticamente si propone nei suoi romanzi di dare comunque sempre anche un aggancio che sia realistico alla situazione economica e sociale di un paese. di un paese di un paese famiglie non existo in isolato. Le existo in all di un paese economico, social, context e non non poter di un paese di un paese di un paese in un paese e di un paese e di un paese autentico se non avessero questi problemi ma si tratta di un paese come un paese di un paese color to the family situation. The family is the prime picture but the social and the financial context is the color. But yes, I mean, one of the things which is the most striking for me is the way in which Ireland changed in the last 40 years. The 1970s were very monochrome, monocultural, very grey, no immigration whatsoever. everybody knew everybody else, it's a very small island and then suddenly the economic boom happened and then didn't happen and things changed dramatically during that period and sometimes when things changed that radically they never go back. So I needed to have an authentic background for the family and in doing that I had to go back to Dublin of the 80s and the 90s and have it as the background color to the picture of the family. Sì, effettivamente è qualcosa che faccio perché sono profondamente convinta che ovviamente una famiglia non esiste nel suo beato isolamento rispetto a quello che accade attorno, anzi al contrario una famiglia è radicata nel contesto economico e sociale in cui si trova a vivere e quindi non avrei mai potuto scrivere la storia di una famiglia che si dipana su 40 anni senza affrontare anche quello che è il contesto in cui questa famiglia si è trovata poi a vivere ad agire la definirei quasi non so come dire uno sfondo una tappezzeria se vogliamo cioè non è sicuramente il protagonista all'interno della stanza ma dà quel colore particolare che ovviamente cambia anche i significati 40 anni di storia che effettivamente sono significativi in termini di cambiamenti per la famiglia ma lo sono sicuramente su questo ho riflettuto proprio scrivendo questo libro anche nella storia di Irlanda perché effettivamente si parte dagli anni settanta per l'appunto con un'Irlanda monocroma un'Irlanda anche monoculturale non c'era tanta immigrazione immigrazione era diverso all'epoca era tutto grigio tutti conoscevano tutti l'Irlanda un pase piccolo alla fine quindi insomma era tutto molto tranquillo diciamo così e poi cosa è successo poi c'è stato questo boom poi all'improvviso questo boom in realtà non c'è stato poi così tanto e però dopo cosa è successo che la situazione era diversissima era cambiata in maniera assolutamente drammatica e quando questo accade che ci sono dei cambiamenti così repentini e così radicali è molto difficile che poi si riesca a ritornare alla situazione precedente e questo sicuramente ha reso ha aiutato molto a rendere la storia della famiglia che io appunto racconto ancora più autentica più genuina tornando appunto a quella che era l'Irlanda soprattutto in questo caso degli anni Ottanta and can I just add something you have mentioned immigration on a couple of occasions and I have written a non-fiction book about Irish immigrants in Britain in the 1950s and what is really interesting is that similar to the Italian situation Irish people from Britain and from the United States sent vast amounts of money home to Ireland and it was as a result of that money that the boom happened that they actually our immigrants were the ones who were responsible for our economic prosperity so we also owe them a great deal of gratitude e se posso aggiungere ancora una cosa riguardo all'immigrazione forse questo è proprio quello a cui ti riferivi prima quando parlavi del legame tra italiani e irlandesi perché effettivamente a partire dagli anni 50 irlandesi italiani hanno cominciato ad emigrare e poi cosa facevano però entrambi mandavano i soldi a casa e quindi se c'è stato poi un boom in Irlanda beh è grazie proprio a questi introiti che arrivavano dagli immigrati e quindi sicuramente anche in questo caso dobbiamo un grosso grazie a quello che loro hanno fatto e magari adesso ci volete bene tutti questi grandi sentimenti di amore per l'Irlanda ma ricordiamoci le gang di New York per un periodo non andavamo mica tanto d'accordo infatti come voi saprete l'immigrazione italiana e irlandese che fu massiccia e contemporanea tra la fine del secolo e tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento si trovò tutta tra Boston e New York e occuparono gli stessi quartieri malfamati mal ridotti un po' tipo i campi profughi di adesso però erano diciamo edificati in mattoni ma non c'era riscaldamento non c'era l'acqua corrente insomma era un disastro e gli italiani diventarono ristoratori e mafiosi mentre gli irlandesi erano poliziotti vigili del fuoco e anche loro pure criminali e ci furono tantissimi scontri anzi è pieno di film che raccontano gli scontri tra irlandesi anche i film di Scorsese tra irlandesi e italiani tra gli altri però insomma alla fine è rimasto comunque una cosa di apparentamento tra il nostro popolo e il popolo irlandese anche per queste condizioni di difficoltà vissute e fra i motivi di fascinazione degli italiani verso gli irlandesi ci metterei anche i setteri irlandesi io ne ho uno e quindi vabbè senza scazzare andiamo e vorrei chiedere ancora a Catherine Dan alcune cose sulla sua vita lei è una scrittrice di enorme successo la scrittura come voi sapete è un processo che richiede concentrazione solitudine isolamento non si può o forse alcuni ce la fanno ma lei no se ci ha messo tre anni a scrivere questo romanzo richiede la capacità di staccare staccare dagli agenti dalle telefonate da quelli che vogliono fare la tesi di laurea su di te insomma dalle mille cose che possono invadere e intasare la vita di uno scrittore di successo volevo chiederle come ha trovato lei la misura per riuscire da un lato a svolgere questa parte il book tour oggi è con noi domani sarà altrove cioè la tournée all'uscita di un libro tutte le persone che la chiamano e la cercano le televisioni chi vuole fare un documentario così e invece riuscire a ritirarsi pensare un libro scriverlo smontarlo come ha fatto e rimontarlo sia una tecnica dei segreti è una tecnica è una tecnica è una tecnica è una tecnica luce quando una book è scritto la pubblicità tende a fare all'uncet all'uncet quindi i might be away from my desk say for due months at a time but then it's over and the public forgets about you and they go on to the next writer and that's fine that's how it is so once the public stuff dies down you can go back to work again it often takes a little time to settle because there's a great difference between the months and months of solitary occupation on your own to suddenly being thrust out into the midst of a book tour but I think like everything else like every other job it's part of the work and I've just developed over the last 20 years a method of when I'm on a book tour I'm not thinking about anything else and when I'm at home writing the next book I'm not thinking about the book tour well devo dire che quando scrivo scrivo e finisco di scrivere il mio libro e poi ovviamente cosa vuol dire che questo quando poi il libro viene lanciato si concentra un po' tutto assieme poi quella che è l'attività promozionale relativa a quel libro e siamo sinceri alla fine è un'attività che dura due mesi poi cosa succede che esce il libro di qualcun altro il pubblico si dimentica lentamente di te finché non ne pubblichi poi un altro E questo ti permette di tornare alla tua routine quotidiana, al tuo tavolo, alla tua solitudine e ti permette di ritornare a scrivere ovviamente. Sicuramente però dopo la fase di tour promozionale, di book, di presentazioni dei libri così, ci vuole un attimo per riprendere il ritmo, quello sì. Però insomma alla fine che cosa posso dire? Che fa parte del mio lavoro, è il mio lavoro, questi sono due aspetti della mia vita di scrittrice e quindi che in questi vent'anni di carriera ho imparato che quando sono in giro a promuovere il libro non penso a scrivere e quando sono a casa a scrivere non penso ad andare in giro a promuovere il libro. E poi c'è un altro elemento però che devo dire che rende forse un pochino più difficile che aggiunge una sfida ulteriore all'attività di scrittura, ovvero il fatto che dove scrivo? A casa. E questo cosa vuol dire? Che la gente dice, vabbè, lavora ma lavora a casa e quindi tende un po' a non capire fino in fondo che io sono a casa ma sto lavorando e quindi mi dicono, senti già che sei a casa non è che potresti fare questo, non è che potresti fare quello, no sto lavorando, quindi a volte è meglio essere in giro e promuovere il libro. Esattamente, è così. Di fatti molti scrittori maschi in genere affittano un ufficio fuori casa, benché possano scrivere da casa, proprio per sfuggire alla moglie che gli dice c'è da pagare la bolletta, c'è da andare a prendere i bambini, c'è da fare la spesa, per affermare il fatto che sono fuori e lavorano. Vorrei fare anche un paio di quelle domande, se vogliamo, noiose, che si fanno alle persone famose e che riguardano un poco la loro esperienza, diciamo, come opinion leader. Vorrei sapere da Catherine Dunn cosa pensa della Brexit, sappiamo che è stato un tema molto dibattuto e lo è ancora nel mondo anglosassone e poi vorrei anche sapere cosa pensa della battaglia, anche se ce l'ha anticipato adesso, dell'hashtag MeToo, cioè delle donne che hanno denunciato molestie e che da molti sono state criticate, anche da Catherine Deneuve e da un altro gruppo di intellettuali francesi, perché queste denunce di molestie a cui avrebbero potuto opporsi finiscono per castrare l'uomo e la libertà dei rapporti tra uomo e donna, delle dinamiche dei rapporti tra uomo e donna. Cominciamo dalla Brexit. I'm horrified by the whole notion of Brexit and I think most people in Ireland are also horrified. Also I think a great many people in Britain are now horrified because they actually didn't understand what they were voting for. Now that it's becoming clearer, even people like Nigel Farage, who was one of the prime movers, has stated that perhaps the British public might like a second referendum so that they can change their mind if they wish to. One of the most difficult things I think for all of us in this age of uncertainty is more uncertainty, and that is certainly what Brexit brings. People in the north of Ireland, for example, politically part of Britain, but part geographically of Ireland, voted to stay in the EU. But because Britain, in general, voted to leave, the north of Ireland must also leave, and this is causing a great deal of disquiet. It's a very small corner of a very small island, and the only way in which people survive there is because of European subsidies. It is going to be a disaster. La Brexit è qualcosa che veramente mi sconvolge, mi lascia senza parole, perché in Irlanda, ma devo dire ormai anche sempre di più, anche in quella che noi chiamiamo l'Inghilterra, sono sempre di più appunto quelli che ci stanno un po' ripensando, quelli che in realtà si sono resi conto col passare del tempo, che forse sono andati a votare quel referendum senza sapere veramente cosa stavano facendo, e adesso che l'hanno capito hanno un po' cambiato idea, e anche Nigel Farage, appunto, uno dei grandi promotori appunto della Brexit, ha detto che effettivamente, ma non è proprio da escludere, che potrebbe essere una buona idea avere un altro referendum sulla Brexit. Ecco, tutto questo anche perché questo evento, questa Brexit, andrebbe ad aggiungere incertezza ad un momento che è già caratterizzato da un'enorme incertezza per tutti noi, e questo sicuramente non aiuta per nulla. E poi, ad esempio, c'è l'Irlanda del Nord, che politicamente fa parte appunto della Gran Bretagna, però geograficamente fa parte dell'Irlanda, ovviamente, e lì cosa è successo? Lì il voto era assolutamente a favore del Remain, appunto, del restare in Europa, però ovviamente facendo parte della Gran Bretagna il voto è andato così, e quindi loro adesso devono, se le cose andranno così, devono uscire dall'Unione Europea, cosa che pone tutta una serie di questioni molto pratiche, molto gravi, perché stiamo parlando di un angolino piccolo piccolo, di un'isola che già di per sé è piccola piccola, e riesce a sopravvivere, è riuscita a sopravvivere solo grazie ai sussidi, ai fondi europei, e quindi capite bene che la situazione è molto grave. And with the Me Too campaign, it's something that is timely, it's something that was necessary, and it was something that was more than necessary, essential, to break down the wall of silence that was concealing the abuse that was going on, not just in the entertainment industry, as we all know, but in fact much more widespread than that. I've read some of the comments from, in particular, some French women about this, and all I would say is they misunderstand the situation, they are thinking that this is something to do with sex, something to do between men and women. It's not sex, it's got to do with power, and it's the abuse of their power by men that is the issue in the Me Too campaign. In this case, this particular war, the weapon tends to be sex, but in fact the issue is about control and domination and power, and I think the French are missing the point. What I would fear, and I hope doesn't happen, is that it becomes something which polarises people even further, and that we end up with a situation where all men are predators, all women are victims, because neither of these things is true. And I would hope it would start a dialogue. Our personal lives are different, but I hope it would start a dialogue about what needs to happen in the workplace, where I have seen and experienced, and everybody, every woman I know has experienced, some kind of discrimination or abuse or harassment, simply because the people in power could, and that has to stop. Per quanto riguarda invece la campagna appunto Me Too, beh, sicuramente era ora che la question venisse affrontata, era necessario, e soprattutto secondo me era assolutamente fondamentale che venisse finalmente smantellato quel muro di silenzio che ha avvolto appunto tutti quegli abusi che hanno luogo ormai da tantissimo tempo e che ahimè non sono affatto limitati soltanto allo show business, anzi, per quanto riguarda i commenti di certi ambienti, ad esempio in Francia soprattutto, posso solo dire che secondo me c'è un'incomprensione di fondo, nel senso che questi commenti tendono a essere incentrati sulla questione del sesso. Ma noi non stiamo parlando di questo, perché la campagna Me Too non si basa, cioè non si incentra solo sul sesso, il sesso è l'arma che viene utilizzata per lo più, ma la questione riguarda l'utilizzo del potere, dell'abuso di una posizione di potere per controllare, per dominare qualcuno, e quindi ovviamente da parte degli uomini. Secondo me in Francia chi ha espresso certe posizioni e perché non ha colto il nocciolo della questione. Detto ciò, bisogna anche fare attenzione, perché questa è una possibilità e sarebbe molto grave, bisogna evitare che la situazione cominci a polarizzarsi e che si arrivi a delle generalizzazioni che anche queste non stanno in piedi della serie. Tutti gli uomini sono predatori, tutte le donne sono vittime, assolutamente no, perché non è così, almeno dal mio punto di vista. Secondo me la cosa importante è che questa campagna ha portato, e speriamo che porti sempre più, a parlare, al dialogo. Questo è molto importante, perché? Perché anche ad esempio sul posto di lavoro io stessa ho vissuto queste esperienze, le ho viste attorno a me e conosco tutte, tutte le donne che conosco mi hanno raccontato prima o poi un episodio di questo genere in cui effettivamente sono state vittime di qualche forma di abuso, di qualche forma di attacco diciamo da parte appunto di uomini, qualche forma di discriminazione e allora sicuramente questo sì, questo deve finire. Diciamo appena detto, Catherine Dan, che la vita non è fatta ovviamente solo di maschi cattivi e di femmine buone. Questo si vede anche nei personaggi del suo romanzo. Una cosa che mi ero dimenticata è di dirvi, che è molto abile, molto riuscita, sono i protagonisti di questo romanzo che non sono mai lo stesso dall'inizio alla fine. In questi 40 anni le persone che iniziamo a conoscere nelle prime pagine cambiano e diventano diverse da come ce le eravamo immaginate. Le due sorelle iniziano con un carattere e man mano che crescono e che la vita le prova e che le cose riescono o non riescono, il loro carattere si modifica e diventa diverso da quello che noi immaginavamo sarebbero diventate quando avevano 17 anni, una più egoista, l'altra più altruista, il genitore magari più severo, invece no. Ecco, c'è un'evoluzione di questi personaggi che non sono mai uguali a se stessi e vi incoraggio quando leggerete il romanzo a andare fino in fondo perché ci sono sorprese fino in fondo, in particolare nelle ultime 30-40 pagine quando ormai credete di aver capito tutto e invece no, ci sono ancora dei segreti da svelare, dei segreti, diciamo degli snodi da svelare che cambieranno ulteriormente ancora le persone, le attitudini, i caratteri.